Con il video di oggi ragazzi segniamo doppio traguardo, primo video del 2021 e primo video dopo aver raggiunto il traguardo dei 1000 follower, quindi ho l'onore e l'onere di ringraziarvi tutti per il supporto con la speranza che in questo 2021 l'armata dei folli possa crescere sempre sempre di più, quindi come al solito mettetevi comodi, ci vediamo dopo la sigla. Ciao ragazzi, oggi niente introduzione, era doveroso ringraziarvi per i 1000 follower e questo grande obiettivo raggiunto per il nostro canale, partiamo quindi subito con la partita, Fischer affronta Darga da bianco, avevamo anticipato già nell'ultimo video che l'apertura era una win hour, quindi difesa francese, e come leggeremo dall'introduzione vediamo che Fischer ha un po' di problemi nell'affrontare questa variante. Il titolo tra l'altro dice tutto, in cerca di guai. La variante win hour ha sempre causato molti guai a Fischer, egli ha sempre trovato molta difficoltà nello spezzare lo scudo difensivo del nero e le sue vittorie non sono mai state convincenti. Continuando ad usare per anni la medesima strategia di attacco, ha infatti dato ai suoi avversari ampie possibilità di migliorare la difesa. La dodicesima mossa di Darga, F6 che poi vedremo, obbliga Fischer infatti a rischiare con un sacrificio di pedone, nel tentativo di ricavare qualcosa dall'apertura. Sebbene la reazione di Darga non sia la migliore, egli riesce, giocando correttamente, a raggiungere la parità. Tuttavia, sottovalutando le possibilità di Fischer, nel centro partita cade vittima di un brillante attacco. Questa è una cosa abbastanza tipica poi di Fischer. Così, ancora una volta, grazie alla sua innata abilità, Fischer ottiene assai di più di quanto solitamente ottenga chi non riesce a trarre un minimo vantaggio dall'apertura. Cioè, un bianco che non tiene un vantaggio all'apertura, al massimo si deve accontentare poi della patta. Andiamo quindi a vedere che cosa è successo. E4, E6, D4, D5, cavallo C3, alfiere B4. Abbiamo detto Wienauer, variante di spinta, E5, C5, A3. Nell'ultima partita abbiamo visto alfiere A5. In questa, invece, Darga sceglie un approccio diverso, ovvero la cattura in C3. B per C3, cavallo E7, A4. Pausa. La mossa preferita da Smyslov, responsabile per gran parte del motivo per cui Botvinnik ha abbandonato questa variante. Più aggressiva, al posto di A4, è DG4. Tuttavia, io, quindi Fischer sta parlando, credo che lo scudo difensivo del nero si possa spezzare soltanto attraverso una strada posizionale. Ma i miei risultati sono stati, in qualche modo, sconfortanti. Quindi anche Fischer, insomma, riconosce il problema e ammette questa cosa. A4, D7. Al posto di D7, dice Fischer, molto più comune è cavallo B, C6. Mossa che sviluppa un pezzo, quindi ci sta. Cavallo B, C6 e riporta questa partita che ha giocato stesso lui successivamente nel 1962 contro Padevski nel torneo di Varna, appunto, del 1962. E in questo tipo di posizione il nero non gioca più donna C7 ma donna A5. E qui il bianco ha due alternative. O giocare alfiere D2 per difendere il pedone oppure donna D2. Andiamole a vedere. Nel caso di alfiere D2, chiaramente, diciamo, sviluppiamo un pezzo, però molte volte l'alfiere preferisce andare su questa diagonale, che è sicuramente migliore. Questo alla lunga rischia di diventare un alfiere cattivo. Alfiere E2, C4, a maggior ragione adesso che si è chiusa la posizione, H4, F6, mossa critica in questo tipo di varianti, H5, F per E5, H6, questo è proprio come è andata la partita tra Fischer e Padeschi, G per H6, cavallo per E5, presa, presa, arrocco lungo, torre per H6 e cavallo G6. E qui, dopo tutta questa serie di mosse, dice Fischer, in realtà il nero sta meglio. Quindi, effettivamente, Fischer non è che ottiene, chissà che, entrando in questo tipo di complicazioni, come dice lui, posizionali. Motivo per cui analizza, in realtà, un'altra continuazione che secondo lui può essere migliore, vista anche l'esperienza della partita. Ovvero, donna D2, che permette all'alfiere campo oscuro di svilupparsi su quest'altra diagonale. Quindi, alfiere D7, alfiere D3, C4, alfiere E2, sempre il piano abbiamo detto con F6, ed ecco qua la mossa che ci aspettavamo, alfiere A3. In questo caso, con arrocco lungo, arrocco corto, quindi arrocchi eterogenei, il cavallo può andare in F5, ma G4 è una mossa, effettivamente, come dice Fischer, interessante, proprio perché consente al bianco di rimanovrare anche l'alfiere in F1 e poi successivamente in G2 e di controllare, in qualche modo, lo spazio sull'ala di re. L'alternativa a C4, in questa posizione, è un'altra variante che riporta Fischer e che commenta così riportando, tra l'altro, una sua partita, ovvero al posto di C4, F6. E dice F6, punto esclamativo, perché? Perché dopo, ad esempio, arrocco, come in questa sua partita contro Ullmann nel torneo di Stoccolma del 1962, arrocco corto, C4, cambio delle donne, e alfiere C6, il bianco non ha ottenuto null'altro se non la parità. E quindi dice, dovrei effettivamente essere costretto ad ammettere che la win hour è un'apertura giocabile. Tuttavia, personalmente, dice Fischer, ne dubito. La difesa è di per sé antiposizionale e indebolisce il lato di re. Tornando, quindi, alla partita, e allontanandoci da tutte queste divagazioni, abbiamo capito che Darga non ha fatto la strada, non ha percorso la strada solita con cavallo BC6, ma ha scelto donna C7. Fischer ha risposto cavallo F3, quindi sviluppando un pezzo, preparandosi, se vogliamo, all'arrocco. B6, che ha l'idea di sviluppare l'alfiere su questa diagonale e cambiare il famoso alfiere cattivo della francese, l'alfiere campo chiaro del nero. Fischer dice, ok, allora faccio io alfiere B5, e se mi metti il cavallo in mezzo, te lo cambio. E a questo punto il nero, effettivamente, ha diverse possibilità, perché può giocare Re F8, e quindi, una volta svolto il suo compito di far perdere l'arrocco, l'alfiere può anche tornare indietro, e poi, se mi vuoi cambiare l'alfiere me lo cambi, non c'è problema. Altra possibilità, dopo alfiere B5, è chiaramente alfiere D7, come, tra l'altro, è stato giocato in partita. E qui, allo stesso modo, l'alfiere non va più su questa diagonale, e quindi io me ne posso tornare tranquillamente in D3. Ulteriore possibilità è interporre il cavallo, quindi cavallo C6, arrocco, alfiere A6, ma, in questo caso, il problema del nero è che il lato di Re, come dice giustamente Fischer, è abbastanza sguarnito. In particolare, dopo questa manovra, cavallo G5, cavallo H3, la donna si appresta ad arrivare sul lato di Re, e quindi, insieme all'alfiere, e poi, eventualmente, al cavallo, ad attaccare tutte queste case, a maggior ragione se il nero arrocco. Darga sceglie alfiere D7. Alfiere D3. Dice Fischer, possibile, era al posto di alfiere D3, anche arrocco, proprio perché, dopo la presa e A5, c'è sempre l'idea, cavallo G5 e cavallo H3, così che, dopo cavallo D7, il bianco può addirittura rimanovrare il cavallo in F4, e prepararsi a controgiocare sull'ala di Re, in particolare, dopo l'arrocco. In partita, invece, abbiamo detto alfiere D3, cavallo BC6, arrocco, e C4. C4 è una mossa, se vogliamo, comprensibile. Chiude la posizione, toglie l'alfiere da questa, che è la casa tipica della difesa francese, no per il bianco. L'alfiere in D3 sta messo benissimo, controlla entrambi i lati della scacchiera, ma soprattutto, insieme al pedone E5, al cavallo F3, la donna in D1, qualcosa si dovrebbe accendere nella vostra testa, perché arrocco, in questa posizione, è una mossa da punto interrogativo, che fa perdere la partita. Infatti, a voi la mossa. Il bianco muove e vince. 3-2-1, la soluzione. Chiaramente mettete il video in pausa, se volete. Il famoso dono greco, alfiere per H7, re per cavallo G5, e non essendoci l'alfiere camposcuro in E7, il re è praticamente sguarnito, non ha difensori, e il bianco può portare un attacco vincente, sia con donna H5 e donna D3, ma anche idee con H4. Motivo per cui C4 ha senso. Alfiere E2, F6, per attaccare questa catena pedonale, comunque una mossa tipica in questo tipo di struttura. Alfiere A3, quello che dicevamo. Il punto critico. F6 è una mossa giusta, dice Fischer. Quindi mi sono dovuto inventare Alfiere A3 per mantenere la tensione al centro. Tutto ciò sacrificando un pedone. Torre 1 poteva essere al posto di Alfiere A3 un'alternativa, ma è meno aggressiva. Ho provato questo stesso sacrificio di pedone contro Madness, nel campionato americano del 1962-63, con la stessa identica posizione, e l'unica differenza è che il pedone, invece di stare in B6, stava in B7. E dice Fischer, questa minima differenza però è in realtà significativa. Infatti in quella posizione, con il pedone in B7, quindi senza questa debolezza qui intorno, il sacrificio poteva addirittura considerarsi sbagliato. Fischer riporta lo stesso la posizione di quella partita con Madness, che è andata avanti così, arrocco, torre 1, F per E5, cavallo per E5, presa, Alfiere per E7, questo è molto importante per mantenere, la colonna è aperta con questo pedone arretrato, che può essere un obiettivo d'attacco, torre F7, alfiere H4. Quindi, concettualmente, l'idea è proprio questa, una volta che si spossa la torre in E1, di giocare sul pedone arretrato. Al contrario, in partita, dopo F per E5, D per E5, il bianco vuole giocare sulla colonna F, senza portare eventualmente la torre in E1. Cavallo per E5 invece è da considerarsi sbagliata, perché dopo i cambi, in particolare il bianco, abbiamo detto, perde un pedone, torre E1, donna per C3, non c'è compenso per il materiale sacrificato, perché la donna rientra, e il nero non ha problemi. Quindi, in partita, è giusta D per E5. Cavallo per E5, torre E1. Ora che si è aperta la colonna E, Fischer vuole approfittare del fatto che il re nero è ancora bloccato al centro. La minaccia, dice giustamente, è cavallo per E5, donna per E5, e alfiere H5, scacco di scoperta sulla donna. Quindi una minaccia concreta. Motivo per cui, Darga risponde con cavallo C6, cavallo 7, C6. E qui, ci dobbiamo un attimo fermare, perché le alternative sono diverse. Già solo con i cavalli, sono almeno 4, le varianti da considerare. Escludiamo subito la più semplice, ovvero cavallo 7, G6, perché, diciamo, dopo il cambio, che poi è quello che è successo in partita, quindi con la ricattura di cavallo, si rientra nella stessa posizione. Quindi in realtà, le vere alternative sono quelle del cavallo 5, il cavallo in E5, che può andare sia in C6 che in G6. Vediamo cavallo G6. In caso di cavallo G6, chiaramente diventa interessante per il bianco l'idea H4, quindi con la spinta successiva in H5, che dà fastidio, effettivamente, al cavallo mal posizionato del nero. Cavallo C6, cavallo G5, quindi con la pressione che insieme ad alfiere G4 e la torrine E1 aumenta sul pedone arretrato del nero. Arrocco lungo, cavallo F7, e quindi non si può fare. H6, cavallo per E6, presa, e alfiere G4. Anche qui il bianco è in vantaggio. Non ci resta quindi che vedere l'altra variante, quindi dopo torre E1, cavallo 5, C6. Anche in questo caso l'idea è quella di portare il cavallo in G5. Arrocco corto, alfiere G4, e tutta la pressione concentrata sul pedone E6. Donna F4, può essere una risorsa per il nero, quindi con la pressione sul punto F2, debole, lasciato indifeso dalla torre che si è spostata in E1. Presa, presa, con questo finto doppio, visto che c'è la presa in F2 con scacco, Re H1, torre F5, e qui, diciamo, dopo questa serie di mosse, il bianco comunque riesce a consolidare la sua posizione perché il cavallo in F3 difende il punto critico in H2 e praticamente dopo questa ricollocazione dei pezzi, guardate qui come il bianco riesce ad aumentare al massimo la pressione sul cavallo in E7 che praticamente risulta decisiva. Infatti il cavallo cadrà e il bianco si troverà in vantaggio. Motivo per cui effettivamente la scelta di darga, quindi cavallo 7 C6 piuttosto che cavallo 5 C6 è comprensibile e giusta. Andiamo quindi a vedere che cosa è successo dopo il cambio Fischer vuole aprire il gioco quindi l'idea è giocare F4 giocare F5 e se non si riesce ad aprire qui giocare anche F6 per aprire da quest'altro lato. Se cavallo F7 chiaramente apriamo le linee quindi inchiodiamo il cavallo attacchiamo il pedone ci prepariamo a giocare F5 e se G6 come definisce stesso Fischer questa mossa brillante no? Alfiere H5 in realtà ha il solo scopo di creare questa debolezza e un ulteriore punto di contatto con i pedoni avversari perché infatti Fischer qui in partita gioca direttamente alfiere G4 ma sarebbe stato più preciso giocare prima alfiere H5 forzare la debolezza G6 e poi tornare indietro in G4 anche se a questo punto c'è una mossa ancora più bella ovvero F5 che porta comunque in vantaggio il bianco perché i pezzi diciamo sono comunque indifesi e si ricattura anche il pedone H5 quindi linee aperte re nero praticamente senza difese entrata in settima molto verosimile con la torre supportata dall'alfiere vantaggio bianco motivo per cui Darga sceglie di indietreggiare in C6 non vi sto a dire che su cavallo G6 è proprio un invito a giocare F5 quindi cavallo C6 alfiere G4 e qui di nuovo lo stesso discorso fare prima scacco G6 e poi alfiere G4 con una differenza e ci tengo a farvela vedere perché poi uno dice queste sono sottigliezze invece hanno poi dei riscontri pratici al posto di alfiere G4 come dice Fischer alfiere H5 è effettivamente più interessante perché crea questa debolezza se adesso infatti rientriamo nelle mosse giocate in partita alfiere per E6 presa presa torre D7 il bianco può giocare questa manovra con donna F3 cavallo D8 che poi è sostanzialmente la stessa linea di difesa giocata in partita torre F6 torre 8 torre D1 in questa posizione il bianco ha tutti i pezzi sviluppati la torre in sesta traversa che controlla tutto e sta bene in partita invece è leggermente diverso perché non c'è questa non c'è questa spinta questa debolezza che si crea e quindi questa casa non è più disponibile per la torre andiamo a vedere che cambia arrocco presa presa torre per torre D7 il bianco non può più giocare donna F3 perché su cavallo D8 è diciamo costretto ad indireggiare sulla quinta traversa perdendo quindi quella attività e consentendo mosse del tipo donna C6 quindi con il nero che si libera un po' dalla sua posizione infatti in partita Fischer non la gioca e dopo torre D7 del nero sceglie l'approccio più pragmatico F5 idea F6 molto semplice cavallo D8 comunque torre E3 donna F4 per cercare un minimo di attività quindi attacca la torre attacca il pedone ma semplicemente torre F3 donna E4 e qui ragazzi un tema molto molto importante inizia l'attacco sul re in difeso A5 Fischer commenta e dice questa mossa inizia le operazioni contro il re arroccato sull'ala di donna mentre la regina è lontana dalla difesa del suo re ed è tagliata fuori dall'ala di donna quindi è tagliata fuori praticamente da questi pedoni e difficilmente può ritornare ci vogliono diversi tempi bisogna spostare la torre e poi può tornare ci hanno almeno tre tempi per tornare quindi Fischer approfitta di questo momento per sferrare il colpo che poi risulterà decisivo perché qui Darga non sceglie l'approccio se vogliamo secondo le regole abbiamo una posizione con il nostro re in difeso le torri verosimilmente su colonne aperte anche questa la donna può tornare di qua e attaccare che facciamo? apriamo il gioco? no lo chiudiamo quindi la mossa più logica anche secondo le regole è B5 che tiene la posizione chiusa e porta ad un gioco pari come dice lo stesso Fischer in partita invece Darga sceglie cavallo C6 forse per riattivare un po' i pezzi e portare in gioco anche l'altra torre mossa sbagliata tuttavia perché l'apertura della colonna A e l'indebolimento ormai cronico del pedone B risultano decisivi andiamo a vedere quelle che sono poi le ultime mosse dopo il cambio A per B A per B Fischer infatti non sta lì a perdere tempo e gioca donna B1 attaccando il pedone se Re B7 abbiamo già un problema non da poco alfiere C5 il bianco vince è impossibile difendere questo pedone donna B1 quindi Re C7 non vogliamo concedere questa casa all'alfiere però qui sorge un altro problema e adesso come dice lo stesso Fischer problema del giorno il bianco muove e vince tocca a voi mettete il video in pausa prendetevi il tempo necessario e trovate la mossa esteticamente bella bisogna capire l'idea ma una volta capita la trovate veramente in pochissimi secondi la mossa è alfiere C1 con l'idea di deviare l'alfiere su queste altre diagonali che sono praticamente sguarnite alfiere C1 e qui è il punto critico non va donna E1 come poi è stato in partita torre F1 donna per C3 proprio perché lo scacco in F4 è troppo forte Re B7 e donna B5 qui Darga ha abbandonato e perché abbandonato direte voi perché questo alfiere è potentissimo e toglie due case fondamentali al re la colonna è del bianco quindi queste altre case sono inaccessibili e il bianco si appresta a giocare donna A6 che in realtà a me sembra quasi quasi scacco matto unico modo magari che si può provare per continuare torre A8 ma capite bene che dopo il cambio e lo scacco questa casa non è disponibile quindi cavallo A7 e donna per B6 si minaccia di nuovo matto e anche qui l'unica difesa è torre B7 quindi il nero veramente deve dare un sacco di materiale che dire Fischer che nonostante l'apertura così e così un'apertura che gli ha sempre dato problemi dimostra tutto il suo talento complicando la posizione e attaccando alla sua maniera spero che la partita vi sia piaciuta e vi mando un forte abbraccio ci vediamo la prossima settimana ciao 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 ciao